Piano urbano della mobilità sostenibile, il cosiddetto PUMS, è lo strumento amministrativo che disegnerà la Vicenza del 2030 e ha concluso il primo step di elaborazione. Si è conclusa la prima fase di partecipazione dove abbiamo ascoltato circa 150 soggetti tra cittadini e associazioni di categoria, quindi corpi intermedi, abbiamo raccolto quelle che erano le istanze, adesso inizia la parte centrale di analisi dei dati e di riuscire poi a mettere a terra quelle che erano le proposte, che sono le proposte e le soluzioni date da cittadini, associazioni di categoria, mettendo insieme e facendo sintesi con quelli che sono le analisi del traffico. Al forum con i cittadini hanno partecipato più di 80 persone che hanno espresso un giudizio sulla mobilità vicentina per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, la pedonabilità, la ciclabilità e l'uso dei mezzi privati. La volontà è di mantenere un canale partecipativo che contribuisca nella definizione delle azioni concrete affinché attraverso le scelte di mobilità si elevi la qualità degli spazi urbani. Rete Veneta aveva portato le istanze dei residenti di Piazza Castello che chiedevano un alleggerimento dei flussi dei bus. La volontà di recuperare gli spazi urbani è una delle principali richieste che arriva dai cittadini e proprio il tema dei bus pesanti che circolano all'interno del centro storico è uno dei temi che abbiamo portato all'interno del PUMS e sul quale intendiamo dare delle risposte concrete entro la fine del mandato. Troppi tram viaggiano all'interno del centro storico soprattutto tram pesanti e l'obiettivo è di recuperare questi spazi urbani per ridarli alla città l'utenza debole quindi a pedoni e a ciclisti.